Sì, funziona senza i fash. Allora, come mai la ditta Fogliacqua ha deciso di utilizzare il bambù? Ecco, è un materiale alternativo, è materiali che si sono imposti come il carbonio e prima di questo l'alluminio. Ma è così leggero e solido? Certamente, sì. Sono state fatte delle prove, ovviamente il bambù è un tipo particolare, il bambù è una varietà che permette di essere molto robusto in spessori limitati. Beh, è bello. Allora, c'è il telaio di bambù, maggiormente questa è la parte la più importante. Sì, è quella che viene costruita. Poi i componenti vengono poi scelti insieme al cliente limitati. E allora, quanto costa la bici elettrica? La bici elettrica costa 2.200 euro. Un prezzo molto corretto, diciamo, per una bici elettrica? Sì, sì, con comunque parafanghi, carter, aderea successoria. E la ditta dove è basata? Alessandria, vicino a Torino, a Piemonte. Sì, a Piemonte. Ah, ok. Allora, signore, la ringrazio. Grazie a lei. Grazie a tutti. Grazie a tutti.